località peschiera e questo siamo arrivato al terzo livello del forte ipogeo come vedete questo qua è l'ingresso che adesso io e Carlo inizieremo a fare come potete vedere dalle immagini che abbiamo girato prima il forte peschiera ipogeo era direzionato come prima in quattro livelli ma soprattutto era tenuto come un caposaldo grandissimo perché se contiamo tutto quello che è stato scavato era esattamente il doppio del forte corno per chi è mai stato forte corno può capire di cosa stiamo parlando qua adesso in questa proprietà privata qui sale la trincea che sale al quarto livello che poi andremo a vedere e adesso prendiamo il terzo livello